Google affronta il tema dell'inclusione in particolare lavorando su tre pilastri che sono la capacità di fare hiring, quindi di cominciare a guardare quando assumiamo le persone in modo tale di eliminare gender gap, di aiutare in tutto il percorso di progression, quindi durante la carriera, ovviamente facendo retention. Queste attività però tendiamo a farle noi come manager e non vogliamo delegarle sulla risorsa umane, motivo per cui due anni fa abbiamo lanciato questo movimento che si chiama It's Up To Me, che proprio in modo semplice dice che è responsabilità di ciascuno di noi, in particolare dei manager, di far sì che questi tre pilastri siano effettivamente parte integrante del nostro lavoro e del nostro percorso. I dati che abbiamo condiviso per quanto riguarda il gender gap in tecnologia non erano estremamente positivi soprattutto in Italia, ma in realtà la cosa positiva che è venuta fuori anche durante l'evento è che le cose si stanno muovendo e ci sono tantissime aziende che stanno facendo non solo iniziative ma che stanno adottando ruoli e una cultura che permette veramente l'inclusione e la parità.